Simone Oratore, partiamo dalla tua soddisfazione personale, una dedica speciale per questo gol? Sì, l'ho dedicato a mio nipotino e a tutta la mia famiglia che mi è sempre stata vicina. Ambigate la soddisfazione personale invece, oggi con del pinto basso, tu è il varone più avanzato, Vicenza ha trovato grande difficoltà nel passare centralmente e andare in verticale, aspetto su cui di recente si soffriva. Che tipo di partita vi ha chiesto in mediana l'este? Di stare più compatti, perché sapevamo che loro giocando 4-3-1-2 erano bravi centralmente, quindi c'è chiesto una preta di grande intensità a metà campo, di stare più stretti e compatti. Restando sul gol, cancela magari una prima parte di stagione un po' travagliata? Sì, il gol aiuta sicuramente mentalmente, dà autostima e fiducia in più, quindi per la seconda parte della stagione saremo più concentrati. Ti sono pensato che tante aspettative sul tuo conto in queste prime partite, magari hai pagato qualcosa in questo senso? Aspettative sì, ce n'erano. Abbiamo avuto un periodo un po' difficile tutti, quindi non era così semplice uscirne, però no, non penso, perché alla fine questo è il nostro lavoro e sappiamo che ci chiedono tanto e quindi noi dobbiamo dare. Un periodo difficile sul quale ovviamente non può non aver pesato il Covid. Quanto ha influito su di te e sul gruppo? Il Covid è stato una bella batossa, comunque ce l'abbiamo avuto quasi tutti, quindi ha influito, però comunque abbiamo avuto tempo di allenarci, di rimetterci in sesto e adesso ci aspetta un giorno di ritorno tosto, però siamo uniti, siamo compatti, pronti per questa parte di stagione. Grazie. Grazie.